Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano Pavia News. Tanti temi che affronteremo all'interno del nostro telegiornale a partire dalle varie modifiche che entreranno in vigore da oggi per quanto riguarda l'area C e anche alcune polemiche scaturite da una possibilità di chiudere ai veicoli il quadrilatero della moda. Non solo questi argomenti, andremo anche a Pavia perché c'è stato un tentato furto nella zona di Mirabello e sentiremo tutti i dettagli con i nostri inviati. Per adesso partiamo così. E allora come vi dicevo oggi è una giornata di nuovi rincari e nuovi divieti ma intanto permane una polemica. Secondo un sondaggio rilevato da Confcommercio Milano l'85% dei commercianti del municipio 1 della città di Milano è contrario a chiudere il centro città alle auto. Andiamo in diretta da Benedetta Maffioli che ci spiega un po' il tutto. A te Benedetta. Sì buongiorno Giussi. Esatto dicevi che oggi entrano in vigore i nuovi rincari, le nuove tariffe di area C ma ricordiamo area C è solo uno dei tanti provvedimenti che l'amministrazione comunale sta prendendo verso una Milano più green. Piste ciclabili, città a 30 all'ora, il turnover dei posti auto in centro al massimo di due ore. E proprio come dicevi l'ultima proposta arrivata dal sindaco di Milano Beppe Sala è la creazione di una ZTL nel quadrilatero della moda che si è chiusa alle auto private. E' quindi utilizzabile solo da taxi, autobus e NCC. Tra favorevoli e contrari proprio come dicevi ci sono contrari i commercianti con Confcommercio che ha avviato un sondaggio su 335 attività proprio del municipio 1 tra commercio non alimentare e ristorazione. E ciò che è emerso è proprio che il 79% di queste attività è contraria alla costituzione di questa ZTL, diciamola del quadrilatero della moda. Tra le motivazioni c'è proprio il danno alle attività commerciali, seguono poi la preoccupazione per un centro meno attrattivo e la possibilità che si crei molto più traffico fuori dal perimetro della ZTL. E addirittura si è chiesto ai commercianti se erano favorevoli o contrari alla possibilità di allargare questa ZTL non solo al quadrilatero della moda ma a tutto il centro storico e in questo caso addirittura la percentuale dei contrari è addirittura maggiore. Sono infatti più dell'80% e anche qui le motivazioni sono più o meno le stesse. Invece tra questi il 13% è favorevole e le motivazioni di favorevoli sono appunto il fatto che Milano non perde di attrattività e sicuramente migliorano traffico e qualità dell'aria. Invece a mettere d'accordo tutti i commercianti è la necessità di una regolamentazione più precisa per quanto riguarda l'utilizzo di bici e monopattine elettrici all'interno appunto del centro di Milano. Un'esigenza evidenziata dal 91% dei commercianti. Ti do la linea per il momento Giuse. Grazie mille Benedetta e come vi accennavo prima oggi è la giornata di queste nuove mini rivoluzioni all'interno del centro storico di Milano. L'area C dai 5 euro attuali passerà a 7,50 euro e non solo. Sentiamo. Il rincaro è servito. Un po' come tutto in tempo di inflazione galoppante anche entrare nel centro di Milano diventa più costoso. Dal 30 ottobre infatti il comune ha rivisto al rialzo il ticket di ingresso sotto le telecamere dei bastioni da 5 a 7,50 euro. Un aumento del 50% che ha suscitato proteste e polemiche ma che Palazzo Marino ha voluto per due ordini di ragioni. Innanzitutto gli aspetti della qualità dell'aria e del traffico sempre più congestionato nelle vie del centro. Resta da verificare se l'aumento in questione possa effettivamente rappresentare un deterrente o meno ma questo solo il tempo potrà dirlo. Dall'altra parte c'è il fatto che in quasi 14 anni di vita il ticket di area C non sia mai aumentato al contrario dei costi di manutenzione dell'infrastruttura. Con questo rincaro il comune conta di mettere a bilancio 15 milioni di euro in più all'anno di entrate. L'aumento del 50% colpisce anche i veicoli di servizio che pagheranno 4,50 euro invece di 3 e i residenti che pagheranno 3 euro una volta esauriti i 40 ingressi gratuiti. Da inizio ottobre inoltre l'accesso al centro è stato del tutto vietato ai veicoli per trasporto merci e agli autobus che abbiano motorizzazioni diesel Euro 4 o 5 e benzina Euro 2. Ma oltre al rincaro di area C la rivoluzione della mobilità lanciata da Palazzo Marino tocca anche le regole delle strisce blu. Sempre dal 30 ottobre e sempre all'interno della cerchia dei bastioni infatti la sosta a pagamento in vigore tutti i giorni tra le 8 e le 19 sarà consentita per una durata massima di due ore consecutive senza possibilità di ulteriori estensioni. In sostanza l'auto potrà essere lasciata nello stesso posto per non più di due ore, poi scatterà la multa. A suo tempo, illustrando la delibera, il sindaco Beppe Sala aveva spiegato che a Milano c'è molta sosta che chiamiamo parassitaria, ossia quella di chi viene in città e pianta la macchina tutto il giorno e toglie spazio di sosta a chi ne ha bisogno. Per questo abbiamo deciso di stabilire una limitazione. Adesso andiamo alla crona, Cappavia, c'è stato un tentato furto nella zona Mirabello. Allora andiamo subito a collegarci in diretta da Luca Pattarini che sta seguendo la vicenda per noi. Sì, buongiorno da Pavia, dicevi bene Giuse, noi siamo qui nel quartiere Mirabello, periferia nord di Pavia, dove nella notte, proprio tra domenica e lunedì, si è verificato questo tentato furto. Ancora non ci sono informazioni ufficiali, non abbiamo conferme ufficiali da parte delle forze dell'ordine. Sappiamo che c'è stato un inseguimento tra le due e le tre di questa notte. A quanto pare è stato preso di mira l'ufficio postale, però lo ribadiamo, non abbiamo avuto conferme ufficiali. C'è stato un inseguimento da parte della Polizia, Polizia di Stato, proprio qui in via Mirabello, che si è concluso all'incirca all'altezza del sovrappasso della tangenziale, che è qui a poche centinaia di metri. Noi siamo passati questa mattina, abbiamo notato che l'ufficio postale di fatto è regolarmente aperto, quindi potrebbe essersi trattato di un tentativo di furto, poi ovviamente sventato. C'è stato sicuramente questo inseguimento, perché ci sono delle foto che testimoniano proprio il passaggio della Polizia, l'arrivo della Polizia proprio nella zona. E poi a quanto sembra i ladri, forse probabilmente anche più di due, si sono dileguati a piedi nelle campagne, avrebbero abbandonato l'auto durante la fuga proprio all'altezza del sovrappasso della tangenziale e poi si sono dati ovviamente alla fuga a piedi e sono riusciti a far perdere le proprie tracce. La zona, tra l'altro sappiamo, zona di Mirabello, è una zona prettamente residenziale, qui siamo nella via principale, ci sono alcuni esercizi commerciali, alcuni negozi, oltre ovviamente all'ufficio postale non è escluso che si trattasse di una banda che appunto cercava un facile bottino, visto che appunto siamo in periferia, ma l'arrivo della Polizia, probabilmente avvertita da qualche residente che ha sentito dei rumori, ha permesso di sventare appunto questo tentativo di furto. Ovviamente cercheremo di darvi maggiori informazioni nell'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Per il momento è tutto, Giussi, ti restituisco la lingua. Grazie Luca, ci collegheremo tra poco con te di nuovo. Andiamo ai temi che riguardano la peste Suina, perché Pavia e Vigevano sono in zona rossa con altri 40 comuni del Parco Ticino, restrizioni che saranno in vigore fino al 13 gennaio. Mentre i ritrovamenti di cinghiali affetti dalla peste suina africana nel Parco del Ticino aumentano, sette quelli ritrovati fino ad oggi, è arrivato l'atteso provvedimento della Commissione europea che istituisce formalmente la nuova zona rossa, che comprende 42 comuni, di cui una trentina pavesi e la parte rimanente milanesi. Ora la Regione dovrà emanare un'ordinanza specifica per stabilire i divieti nell'area, sebbene sia molto probabile che le norme di comportamento siano uguali a quelle già in vigore in oltrepo a Pavese dal mese di giugno. Un paio di settimane fa, infatti, era stata la stessa Regione, in attesa del provvedimento europeo, a inviare al Parco del Ticino la vecchia ordinanza, dicendo in sostanza di attenersi a quella. Nessuna misura draconiana in arrivo, dunque, ma una serie di norme di biosicurezza che saranno ottenute a rispettare decine di migliaia di cittadini residenti in queste zone. Le escursioni nella natura, per esempio, a piedi o in bicicletta, saranno comunque possibili, ma al termine occorrerà lavare e disinfettare gomme e calzature, da evitare poi anche, dove è possibile, di addentrarsi con l'auto in aree rurali. Meglio lasciare la macchina sull'asfalto, nelle zone rosse o, di restrizione 2, le manifestazioni all'aperto. Poi, con più di 20 persone, andranno autorizzate dalla comune di volta in volta, ma particolare attenzione andrà posta anche agli animali domestici. Cani e gatti, in particolare, se la PSA, infatti, non può infettarli, possono essere degli ottimi vettori per il virus, che rimane attivo per molti mesi, anche in condizioni difficili. Per questo, gli esperti consigliano di fare molta attenzione anche alle passeggiate con il cane e i giardinetti della città. A ritorno è sempre consigliato lavargli e disinfettargli le zampe. Se si sommano, le due zone rosse attivate in provincia di Pavia sono 60 i comuni coinvolti, praticamente un terzo del totale, comprese le città di Pavia e Vigevano, mentre la terza città per popolazione, Voghera, è inserita in zona di restrizione 1 o zona gialla, con tutti i centri della fascia pedecolinare dell'oltrepò. Sono riprese nella notte, nonostante il maltempo che interessa all'alta valtellina, le ricerche di Antonio De Martino, l'operaio di 58 anni di Robecco sul Naviglio a Milano, disperso da giovedì scorso sul ghiacciaio dello Stelvio, dove si era recato per una vacanza sulle nevi. Ieri alle 20.08 il fratello ha ricevuto una chiamata sul cellulare del 58enne, disperso durata pochi secondi, durante i quali si sentivano solo frusci. Poi sono stati spuntati i messaggi che aveva nel frattempo ricevuto dal momento della scomparsa. Valutando l'ipotesi che l'uomo possa trovarsi ferito in un crepaccio, sono quindi riprese le ricerche che fino a sabato scorso non avevano dato esito e che erano state interrotte. Il cellulare dello sciatore, disperso, è stato localizzato nella zona del rifugio Livrio, a circa 3.000 metri la parte più alta del ghiacciaio dello Stelvio. Cambiamo argomento, a Vigevano c'è una proposta per togliere i sacchi di rifiuti in Piazzale Ducale. Vediamo. Basta sacchi di rifiuti per le vie del centro di Vigevano. Il Circolo Lomellino di Sostenibilità, Equità, Solidarietà propone di tornare ai contenitori. La proposta avrebbe come primo punto quello di mantenere la pulizia e la salubrità della zona. Il Circolo vorrebbe che ASM accettasse la proposta di tornare ad utilizzare i bidoncini, perché porterebbe ad avere ordine e un'immagine migliore della città. Poco tempo fa, chi viveva in centro poteva utilizzare i contenitori per la plastica e l'indifferenziata. In maniera repentina, era poi stato detto ai residenti che i contenitori non sarebbero più stati utilizzabili. I cittadini hanno chiesto spiegazioni ed è stato risposto loro che così facendo si evitava che qualcuno mettesse i sacchi neri all'interno dei contenitori. I sacchi neri sono da tempo vietati perché è impossibile vedere cosa ci sia all'interno e quindi distinguere i materiali che contengono. Mettere fuori i sacchetti chiari, invece, faciliterebbe il lavoro. I sacchi dell'indifferenziato dei ristoranti e dei bar, però, contengono residui di cibo che potrebbero attirare i topi e questo rovinerebbe l'immagine della piazza Ducale e di tutto il centro storico. Anche per gli altri materiali, i sacchetti esposti alla sera non sono un bello spettacolo. Il Circolo Lomellino di Sostenibilità, Equità e Solidarietà propone quindi di risolvere il problema del decoro urbano introducendo nuovamente i bidoncini. Ammonterebbe a 700 mila euro il bottino di un furto denunciato in un albergo di lusso del quadrilatero della Moda di Milano. La vittima sarebbe una donna di 77 anni, residente nel Principato di Monaco, che non avrebbe più ritrovato nella sua stanza alcuni gioielli. Il furto sarebbe stato denunciato con qualche giorno di ritardo perché la donna avrebbe prima fatto verificare che i preziosi non si trovassero nella sua abitazione monegasca. Le circostanze sono in fase di verifica da parte delle forze dell'ordine. Cambiamo di nuovo argomento e torniamo in diretta da Benedetta Mafioli perché questa mattina a Milano si è tenuto un convegno sulla mafia ed è emerso un dato davvero interessante. A Milano sono oltre 250 i beni confiscati alla mafia e, ha riferito l'assessore Bertolè, che saranno sempre in aumento. A te Benedetta. Qualche piccolo problema di audio. Benedetta, vediamo se riusciamo a ripristinare. Sì, adesso sì. Mi sentite? Ok, esatto. Esatto, Giuse, questa mattina eravamo proprio al Teatro Pier Lombardo, Teatro Franco Parenti di Milano, proprio perché, come dicevi, è la settimana del Festival dei Beni Confiscati, iniziata il 27 ottobre e terminerà il 2 novembre. Una manifestazione organizzata con l'obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sull'azione di contrasto alle mafie, appunto sui beni confiscati alle mafie. Come dicevi, i beni confiscati nelle slide presentate, come vediamo sul palco dall'assessore al welfare Bertolè, sono 230 nelle slide presentate, poi ha detto che comunque sono aumentati e sono arrivati ormai a 250, però rispetto ai dati presentati, 230 beni confiscati, 14 in più rispetto al 2022, per un valore immobiliare complessivo di 20 milioni di Euro. Quali sono questi beni confiscati? Per la maggior parte sono appartamenti, 114, poi seguono anche box, locali commerciali, magazzini, terreni e anche unità DMM, quindi di edilizia popolare. Tra tutti i beni confiscati, 138 sono affidati ad enti del terzo settore per progetti di residenzialità e ospitalità nei quartieri, diritti ed inclusione sociale, inerenti anche alla cultura della salute. Tra i vari municipi in cui sono stati confiscati i beni per mafia, il maggiore numero di beni confiscati si trova nel municipio 3, dove sono 42, poi c'è il municipio 9 e il municipio 2, invece l'ultimo è il municipio 1 con solo 6 unità confiscate. Durante l'evento si è voluto naturalmente sottolineare l'importanza del riutilizzo proprio dei beni confiscati, sia da un lato appunto di risposta ad un bisogno sociale, quello di combattere la mafia, ma anche ad un progetto di promuovere l'economia civile, quindi lo sviluppo delle persone e del territorio, favorendo ad esempio l'occupazione lavorativa. Noi abbiamo proprio sentito l'assessore al welfare Lamberto Bertolè e se la regia è d'accordo manderei ora in onda le sue parole. I beni confiscati a Mianno ormai sono quasi 250 in continuo aumento, diffusi un po' in tutti i municipi della città, beni molto diversi, sono appartamenti, box, terreni, esercizi commerciali, una pluralità di luoghi e di spazi che ci conferma quanto la mafia sia radicata e presente nel nostro territorio da molti anni. La Lombardia è la quinta regione italiana per il numero di beni confiscati. L'obiettivo di questo festival è quindi far conoscere la presenza dei beni e quindi la presenza mafiosa nel nostro territorio, ma anche dare visibilità alla vittoria dello Stato che grazie a questa straordinaria legge consente di colpire i mafiosi non solo personalmente e penalmente ma anche dal punto di vista del loro patrimonio, dando più forza al sistema di welfare perché noi abbiamo luoghi e spazi da assegnare per dare risposte ai bisogni sociali delle persone, ma anche per promuovere l'economia civile, quindi un'economia non solo finalizzata al profitto ma allo sviluppo della persona, dei contesti, delle comunità e questa è una cosa molto importante per ovviamente togliere ossigeno, alimento alle mafie. I protagonisti di questo festival sono gli studenti perché vogliamo fare in modo che i ragazzi e le ragazze non solo si confrontino con la presenza mafiosa nel nostro territorio che non può più essere negata, ma anche con l'obiettivo di conoscerla meglio e di superare un po' di letture superficiali datate della mafia perché per sconfiggere la mafia bisogna capirla e conoscerla. Adesso come premesso torniamo a collegarci in diretta a Pavia da Luca Pattarini perché in occasione della commemorazione del cinquantesimo anniversario della morte di Zilli da una parte abbiamo l'estrema destra che torna in borgo e dall'altra gli antifascisti che sfilano in centro. A te. E sì, è un appuntamento che ormai ogni anno, il 5 novembre, si rinnova la commemorazione in ricordo del militante dell'MSI Emanuele Zilli con i partiti di estrema destra che appunto si ritrovano in quella parte della città dove si è verificato l'incidente che costata la vita a Zilli appunto in borgo Ticino e dall'altra parte però ci sono i comitati e la rete antifascista che invece manifesteranno dall'altra parte del ponte coperto ovviamente davanti al piazzale del ponte coperto in fondo a strada nuova. È un appuntamento che ogni anno in modo genera un po' di allerta perché vi ricorderete i fatti del 2016, sette anni fa appunto nel corso di questa manifestazione nella quale in quell'occasione era stato autorizzato un corteo proprio dei movimenti di estrema destra che avevano sfilato per le vie della città insomma mentre attraversavano il ponte appunto i partiti di estrema destra, i militanti di estrema destra, c'erano anche i militanti antifascisti dall'altro lato, c'era stata una carica delle forze dell'ordine, hanno stati manganellati appunto alcuni militanti antifascisti, poi era anche partito un processo a loro carico che è tutto in corso per alcuni di loro. Ovviamente come sempre accade in queste occasioni ci si aspetta una città almeno parzialmente blindata, lì appunto nelle due parti dove ci saranno le due manifestazioni con un cordone delle forze dell'ordine che cercherà di tenere divisi ovviamente i due schieramenti i movimenti antifascisti hanno avuto il permesso di poter manifestare nel piazzale davanti al ponte coperto fino alle 22, mentre invece dovrebbe essere più rapida la celebrazione appunto per i 50 anni in Borgo Ticino da parte dei partiti di estrema destra. Per il momento Giuse è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie mille Luca Pattarini. Invece è stato completato il restauro dello scurolo di San Carlo nel Duomo di Milano a darne notizia dopo due anni di lavori e la veneranda fabbrica del Duomo. Sono state sistemate le parti rovinate e pericolanti in legno, quelle in argento e la tappezzeria. Il luogo che ospita le spoglie di San Carlo Borromeo, copatrono dell'Arci di Ogesi di Milano, tornerà a essere aperto al pubblico a partire da sabato 11 novembre. La cerimonia che segnerà la fine dei lavori si terrà invece il 3 novembre con Monsignor Delpini della ricorrenza di San Carlo. A Pavia gli studenti hanno ridisegnato, in qualche modo reinventato lo scalo ferroviario attraverso alcuni disegni e i mattoncini. Vediamo. Sono stati circa 200 gli studenti delle scuole pavesi coinvolti nella progettazione partecipata per la rigenerazione dello scalo ferroviario del capoluogo, una delle tante aree dismesse della città che nei prossimi anni cambierà completamente volto. La società supernova, che ha vinto il masterplan promosso da FS Sistemi Urbani per la riqualifica dell'area, ha organizzato una serie di laboratori differenziati in base alle diverse classi per raccogliere il punto di vista dei bambini e dei ragazzi. Gli studenti hanno potuto così coprogettare gli spazi pubblici pedonali e gli elementi da inserire al loro interno. Tra le idee suggerite c'è quella di una scuola alimentata con energia eolica, una sala cinema con proiezioni al chiuso e all'aperto, aree verdi adatte agli animali, marciapiedi più ampi per le persone disabili, sedie e tavoli per picnic e spazi per la lettura. Nei prossimi mesi l'amministrazione comunale organizzerà un evento a cui potranno partecipare anche le famiglie e tutti i cittadini che vogliono conoscere le proposte realizzate dai bambini e dai ragazzi. Saranno esposti i disegni, le costruzioni fatte con i Lego, i collage e gli elaborati. A Fallavecchia è stata girata una scena del film che ripercorre la vita di Ennio Doris. Ve lo avevamo detto e non avete fatto nulla. Questo è il senso dell'invettiva del Comitato dei Pendolari contro il Comune di Abbiategrasso per l'Associazione Mimoal. Si rischia sul serio di non riuscire a realizzare il raddoppio su cui, dicono, è scesa la nebbia. I continui rimpalli con RFI, che ha presentato diverse versioni progettuali, si legge in una nota del Comitato, avrebbero solo allungato i tempi dell'opera. In più, secondo l'Associazione dei Pendolari, la discesa a Roma, al Ministero delle Infrastrutture e della Giunta di Abbiategrasso, è solo l'ultima spiaggia per provare a recuperare un'opera che, dicono evidentemente, ha trovato numerosi ostacoli ad Abbiategrasso. Secondo l'Associazione, se il raddoppio si farà, lo si farà probabilmente fuori dai tempi previsti e quindi... Scusate, evidentemente c'è stato un errore. Adesso siamo pronti per mandare in onda il servizio appunto sul fatto che a Fallavecchia è stato girato una scena del film sulla vita di Ennio Doris. Vediamo. Anche l'Abbiatense, protagonista del film, c'è anche domani sulla vita di Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum. Le riprese hanno avuto luogo anche a Fallavecchia, frazione di Morimondo e per la realizzazione del set sono stati presi in prestito alcuni attrezzi d'epoca conservati al Museo Agricolo di Albairate. Il film, come confermato dalla produzione, che ha girato le scene a Fallavecchia, racconta la storia di Ennio Doris da quando era bambino fino a quando affrontò il crack delle borse che portò nel 2008 al fallimento della banca americana Lehman Brothers. Si racconterà quel pezzo in particolare della storia di Ennio Doris, quindi, quando e come decise nel 2008 di difendere i propri correntisti che avevano investito in Lehman Brothers con propri soldi. Su quell'evento si ripercuote tutta la storia della vita del fondatore di Banca Mediolanum, dato che lui arrivava da umili origini, era nato in Veneto, da una famiglia dove il padre lavorava nelle campagne e al mercato del bestiame. Per questo si è cercato di ricreare il mercato come fosse stato quello di Tombolo, il paese natale di Ennio Doris. Nella scena di Fallavecchia, in particolare, viene ricreata una compravendita del bestiame in un momento in cui il fondatore di Banca Mediolanum aveva circa 10 anni. Questa è la nostra ultima notizia, io vi lascio le previsioni del meteo. L'appuntamento torna questa sera alle 19 con le edizioni serali dei nostri Tg. Vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.